La fede è la vostra forza. 5 settembre 1975. Figlioli di Letti, sia pace a voi. Sono Gesù, divino sposo delle anime, qui in mezzo a voi per raccogliere con le vostre preghiere l'opera solerte delle vostre mani, che diventerà l'annuncio della buona novella nelle famiglie. Io vi benedico e vi invito ad elevare il vostro inno di ringraziamento al Padre che, a preferenza di tanti altri, vi ha chiamati e vi ha dato santi desideri di apostolato e di bene. Vi invito anche a gioire e ve ne spiego il motivo. Mi si accostarono un giorno alcuni scribi e farisei e mi fecero una domanda. Come mai Giovanni il Battista invitava i suoi seguaci alla penitenza, mentre i tuoi discepoli mangiano e bevono? A questa domanda risposi che mentre lo sposo è coi convitati non si può imporre ad essi di digiunare e di fare mortificazione. Ma ora parlo a voi e suppongo che mi presentiate la stessa domanda. Ed io vi rispondo. Siate gioiosi perché chi vive in grazia di Dio è sempre con lo sposo. Perciò non può venir meno quella gioia interiore che è serenità e pace. Deve anche trapelare all'esterno la vostra gioia a dimostrare che la fede è la vostra forza e la vostra speranza. Un Dio uno e trino abita nel cuore in grazia e fa dell'anima il suo cielo. Basterebbe questo pensiero per togliervi ogni preoccupazione ed ogni tristezza. C'è in voi l'amico fedele che si sobbarca il peso della vostra vita. La dirige e la governa. Persino i vostri sbagli utilizza per il vostro bene fino a trasformarli in fonte di meriti. Certamente è sempre Dio che deve agire. Anche se vi pare di essere affaticati per tutto ciò che fate. Sono sempre io, il vostro Gesù, che meglio di ogni altro capisco le vostre esigenze. Che vi faccio fare determinati incontri e determinate esperienze. Non voglio il male. Ma so che dopo certe cadute sentirete il peso della vostra carne. Sentirete e capirete i vostri limiti e vi farete piccoli. Piccoli. Ecco perché vi ripeto. Siate sereni. Fate in modo di acquistare. Di mantenere. Di consolidare quella vita interiore che è ciò che vale nella vita umana e lasciatemi agire all'interno e all'esterno. Internamente, dirigendo affetti e intenzioni e desideri. Esternamente. Santificando il vostro lavoro così da renderlo vera preghiera. Io mi rallegro con voi. Poiché Dio è felicità infinita. Vi benedico tutti ad uno ad uno. Arrivederci e buonanotte.